L'arresto del sindaco di Riace, Mimmo Lucano, simbolo nel nostro paese e nel mondo di un modello di accoglienza e integrazione unico, ha scatenato come prevedibile una tempesta di reazioni. Sui social, attraverso comunicati stampa, il mondo politico e dello spettacolo ha espresso la propria opinione, scegliendo da che parte stare. Primo fra tutti, Beppe Fiorello, l'attore che ha interpretato il primo cittadino del modello Riace in una fiction girata nei mesi scorsi e mai andata in onda. Si è speso molto nei mesi scorsi per sostenere il modello di accoglienza del piccolo centro calabrese. Qualcuno si porterà sulla coscienza la vita di un uomo straordinario, scrive sui social. E questo è un attacco personale, Mimmo Lucano dà fastidio perché va controcorrente e si sa che in questo paese si rischia grosso se non si obbedisce al potere. È molta la solidarietà raccolta da Lucano in queste ore, vicinanza che ovviamente non trova sponda nel primo commento del ministro dell'interno Matteo Salvini, che già in estate lo aveva definito uno zero. Accidenti, scrive il leader leghista su Twitter, chissà cosa diranno Saviano e tutti i buonisti che vorrebbero riempire l'Italia di immigrati. A Salvini rispondono gli esponenti di possibile, Giuseppe Civati e Andrea Maestri. È incredibile che un ministro indagato per sequestro di persone ha gravato festeggi per reati contestati a quello che lui stesso ha indicato come suo nemico politico. Sul blog del Movimento 5 Stelle in mattinata appare invece una nota del sottosegretario al ministero dell'interno Carlo Sibilia, che va oltre Salvini e contraddice anche la vicinanza espressa al modello Riace da una parlamentare europea come Laura Ferrara. Il sistema dell'accoglienza targato PD ha creato più indagati che integrati. Il governo del cambiamento ha dichiarato guerra al business dell'immigrazione. Sono molto colpito dall'arresto di Mimmo Lucano, sindaco di Riace, dice invece il segretario nazionale di sinistra italiana Nicola Fratoianni. Il deputato calabrese del PD, Antonio Viscomi, ha invece chiesto che sia fatta luce e giustizia nel più breve tempo possibile, perché Riace non può e non deve morire. Decisa infine anche la risposta dei cittadini di Riace e dei calabresi, tutti uniti per la manifestazione già organizzata per il prossimo sabato 6 ottobre. Riace non si arresta, questo è il titolo scelto per mostrare la loro vicinanza e solidarietà al sindaco Mimmo Lucano.